Il fiore di oggi è Mimulus, il mimolo selvatico. È adatto a quelle persone che hanno tante paure e sono molto timidi, molto incerti, molto insicuri. Paure non vaghe come Aspen, ma paure ben precise, di cose ben precise, paura della morte, delle malattie, di prendere l'ascensore, di prendere l'aereo e molte altre. Prendendo questo fiore di Bach queste persone acquistano coraggio, ridimensionano la paura, la vedono in maniera più realistica e se il caso affrontano la situazione. Molto importante per queste persone sarebbe, per avere un aiuto, quello di scrivere su un foglio le paure che hanno e le reazioni che hanno a queste paure, in modo da distaccarsi un po' dalla situazione, non essere completamente coinvolti.